Novo aggiornamento dalla redazione di Flores Multimedia, Mauro Ciutini in studio, un veicolo in avaria sul FIPI-Li tra Pisa Aeroporto e lo svincolo Pisa Nord-Est in direzione Livorno. Sempre sulla strada di grande comunicazione, Codia, lo svincolo Navacchio-Visignano in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze, uno scambio di carreggiata per lavori tra Firenze in Pruneta e lo svincolo San Casciano Nord in direzione Siena. Ricordo per i treni, l'Intercity 596 da Napoli a Milano, viaggia con 16 minuti di ritardo, arrivo previsto a Prato Centrale alle 20.06. Per quanto riguarda i lavori alla tramvia di Firenze, domani il ribaltamento del cantiere in via Vittorio Emanuele II. È tutto muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze a più tardi.